Via Chilesotti potrebbe diventare a senso unico. È una delle ipotesi emerse nel corso dell'ultima riunione del tavolo per il trasporto pubblico in comune. Nelle settimane estive l'amministrazione potrebbe già iniziare a sperimentare questa rivoluzione. Le auto potranno accedere alla via solo da ovest e all'altezza della stazione gireranno a destra per rimettersi in Viale Venezia, a sinistra per tornare in Via Parolini. L'intervento servirà a rendere più sicura quella zona su cui si riversano ogni giorno migliaia di studenti e pendolari tra le due stazioni dei treni e del bus. L'assessorato ha già pensato a potenziare la segnaletica e i controlli di polizia, ma questi interventi potrebbero non bastare. La rivoluzione in via sperimentale potrebbe attuarsi già a partire da luglio.